La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano residente in provincia di Cosenza per autoaddestramento ed attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Nel materiale informatico sequestrato, gli investigatori hanno trovato manuali di istruzioni sulla realizzazione di ordigni, tutorial sulla conduzione di operazioni terroristiche, documenti esplicativi sull'autoaddestramento per il compimento di attentati e anche video ed immagini cruenti di esecuzioni dell'ISIS, riviste ufficiali delle agenzie mediatiche dell'ISIS, Al-Qaeda e altri gruppi terroristici, oltre a documenti in lingua araba autoprodotti dall'indagato. A novembre l'Istat stima un calo sia nell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 101,7 a 98,1 che nell'indice composito del clima di fiducia delle imprese che scende da 92,2 a 82,8 per effetto soprattutto del forte peggioramento dei servizi di mercato. L'Istituto ha spiegato che tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori stanno subendo una flessione anche se con intensità differenziate. Il peggioramento più marcato riguarda il clima economico e il clima futuro che passano rispettivamente da 87,2 a 79,3 e da 104 a 98,8. In generale, spiega l'Istat, il calo della fiducia è diffuso in tutti i settori. L'Italia è stata colpita da 946 fenomeni meteorologici estremi in appena dieci anni. Si tratta di un vero record che altro non è che la triste conseguenza del cambiamento climatico. Sono stati 507 i comuni della penisola ad aver vissuto disagi a causa del maltempo. Da gennaio a ottobre 2020 sono stati 86 gli allagamenti dovuti a piogge incessanti e 72 le trombe d'aria. I dati sono forniti dall'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente e segnano un netto aumento dei fenomeni rispetto al 2019. Roma è indubbiamente uno dei comuni più duramente colpiti con 47 eventi estremi in dieci anni. Seguono poi Bari, Agrigento e Milano. La crisi sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 potrebbe avere profondi effetti anche sulle nascite. Secondo il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo, in audizione sulla manovra davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato, è legittimo ipotizzare che il clima di paura e incertezza e le crescenti difficoltà di natura materiale generate dai recenti avvenimenti orienteranno negativamente le scelte di fecondità delle coppie italiane. Così ha dichiarato Blangiardo che poi ha aggiunto che i 420.000 nati registrati nel 2019, il minimo mai raggiunto dall'Unità Nazionale, rischia di scendere a circa 408.000 nel bilancio finale dell'anno corrente, dato frutto di un calo di concepimenti nel mese di marzo, per poi ridursi ulteriormente a 393.000 nel 2021.